Una ricompensa per i cittadini virtuosi che differenziano correttamente Rivoluzione Green a Noci grazie alla nuova tariffazione puntuale dei rifiuti Tarip. Un sistema intelligente messo a punto dalla società che gestisce sul territorio il servizio di igiene urbana che traccia i rifiuti per volume e numero di conferimenti consentendo a ciascun utente di conoscere in tempo reale la percentuale di quanto prodotto con l'attribuzione di punteggi. In questo modo è possibile un calcolo preciso della tassa sui rifiuti. Dopo un anno di sperimentazione il servizio ora entra nel vivo. Si accresce così la consapevolezza dei cittadini sulla raccolta differenziata con un pagamento delle tasse sempre più equo. L'amministrazione comunale ha organizzato due incontri pubblici per informare e supportare i cittadini. Il primo si è svolto il 18 novembre scorso. Il prossimo si terrà il 28 novembre alle 18 nel Chiostro di San Domenico. Abbiamo pensato che nell'introdurre questa ulteriore novità della tariffazione pontuale fosse utile incontrare la cittadinanza per spiegare i meccanismi di questa novità ed essere pronti così come in passato siamo stati per accoglierla positivamente e per attuarla nel migliore dei modi. È un sistema innovativo in ambito ambientale che solo pochi comuni in Italia stanno adottando tra cui anche il comune di Noci. È un sistema progressivo premiale che permetterà di avere uno sconto in bollettazione dalla Tari per chi è un cittadino virtuoso che sa differenziare bene mentre ci sarà una penalità per il cittadino meno virtuoso che non è in grado di fare bene la differenziata.